Ho incontrato qualcuno di voi quando sono venuto nelle strade per salutarvi, quella volta quando ci siamo incontrati vi ho detto tra poco verrà la mano destra di Papa Francesco, il cardinale segretario di Stato e ci incontreremo con lui. E così oggi succede. Allora sono felice, non ci troviamo nella strada, oggi ci troviamo seduti e al fresco, ma sono felice di introdurvi la persona più vicina nel lavoro al Papa di Roma. Lui ha voluto venirevi a trovare e adesso vi rivolgerà un saluto speciale riservato solo a voi. Grazie, Eminezza. Buongiorno a tutti voi. Dobro giorno a tutti. Io sono molto felice di essere qui con voi quest'oggi e di potervi incontrare e salutare personalmente. E sono molto contento perché io sono venuto in Ucraina a nome di Papa Francesco per essere vicino, per manifestare vicinanza, solidarietà e amore, ecco uso questa parola, e amore a tutti quelli che soffrono, a tutti quelli che si trovano in difficoltà e in necessità. Ecco oggi è l'ultimo giorno della mia permanenza in questa bellissima terra e mi piace concluderlo proprio con questo incontro perché il primo incontro che ho avuto giovedì scorso è stato con la gente, le persone che soffrono a causa della guerra nell'est del paese. E ora sono con voi, incontro voi che vi trovate in difficoltà, avete sperimentato la povertà, sperimentate la privazione di tante cose, non avete un tetto dove potervi riparare. Ecco, sono contento di essere qui per stare un po' con voi e vedervi e incontrarvi personalmente. E sono contento anche di portarvi il saluto del Papa, di Papa Francesco. sapete quanto il Papa Francesco a cuore i poveri? E io molto rado, che posso вам передare un saluto di Papa Francesco, perché, come sapete, Papa Francesco ha un grande e aperto per i poveri. Ecco, possiamo davvero dire che i poveri sono i suoi prediletti. Ed invita tutta la chiesa, ecco tutti noi, ad essere sempre più vicini a loro, ad aiutarli in tutti i modi possibili. E io sono contento anche perché qui nella vostra terra ci sono già tante persone, a cominciare da Padre Sebastian, che si stanno prendendo cura di voi. E io, allora, mi permetto di incoraggiare anche loro, oltre a salutarli veramente con tanto affetto, lui e tutti i volontari, ad incoraggiarli, in nome del Papa, ad andare avanti in questa grande opera di bontà e di misericordia. Ecco, qui sulla terra il Signore ci ha messo perché ci vogliamo bene e ci aiutiamo gli uni gli altri. Invece, tante volte, ecco, prevale la cattiveria, prevale l'egoizmo, prevale l'insensibilità nei confronti degli altri, soprattutto di quelli che si trovano in difficoltà. E come noi vogliamo essere uomini e donne buoni, Uomini e donne che amano il Signore e che amano gli altri, così come possiamo, ma chiamiamo concretamente gli altri e li aiutiamo nei loro bisogni. Allora, grazie ancora per essere venuti ad incontrarmi. Mi avete fatto un grande regalo di cui io vi sono estremamente grato e riconoscente. Ecco, che il Signore vi benedica tutti e siate sicuri della preghiera e della vicinanza di Papa Francesco. E vi è un' unapposte che è un'ottima. E vi è un'ottima prima di entrambi di cui è una reazione e di un'ottima regalo di Cristo. E adesso, magari, preghiamo alla preghiera insieme a poi vido a benedicione. E ora siamo noi siamo noi e siamo noi e siamo in un'ottima regalo di Pietà. E ora siamo noi siamo noi. E ora siamo noi e siamo noi. E ora siamo noi siamo noi. E ora siamo noi siamo noi, come noi siamo noi. Grazie. Grazie anche al direttore della Caritas, mi ero dimenticato per le sue parole e anche per l'opera che svolge, per l'animazione che svolge. Grazie anche al direttore della Caritas e Presidente per tutto ciò che faccio, per tutti i loro bucini. Dominus Vubiscus, benedicat vos, Onnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Grazie. 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 che possono sentire, che non sono loro, che c'è qualcuno, che c'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è Caritas, c'è брат Sebastián, c'estri materi Teresi з Калькутти, c'è Vincentia e De Poli, che facevano questo servizio biede. «Так, дійсно, почули такі дуже прості, щирі слова, ми бачили, коли кардинал зустрічався з семінаристами, це були такі промови, підготовані, заздалегідь, очевидно, це було видно такі дуже глибокі, філософські, цікаві речі, спрямовані на людей, які дійсно вчаться, присвячують свій час і мають велику культуру, великий кругозор». Дякую. 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 Між молитвою і добрими вчинками, між нашим духовним життям, щоб воно дійсно було глибоким. Як сказав хтось із отців церкви, що молитва потребує крил. І ці крила – це милостиня і піс. Правда? Тобто, коли ми постимо, то начебто наближаємося до цих людей. І коли даємо цю пожертву якусь для них, церква дуже часто збирає кошти також для них. Так б в різний спосіб можна поділитися з цими людьми, чимось матеріальним, чимось духовним. І я думаю, що було би добре використовувати такі нагоди і такі можливості, коли вони є для нас. Тому хочемо також сказати, що така допомога відбувається. Це є сестри матері Терези з Калькутти. Вони також кормлять бідних. Також там можна ночувати в їхньому домі. Також ця місія, яку виконує Карітас, де також працює брат Себастіан. Тобто це є пункти, де відбувається ця допомога, конкретна допомога. Також отці Вікентія Деполь також тут в Києві допомагають. І можемо також побачити, як голова конференції, і архієпископ Мячеслав Мокшевський також допомагає до цього важливого служіння для людини. Триває зараз обід для цих бідних людей в церкві Святого Олександра. А ми будемо завершувати нашу трансляцію для того, щоб повернутися приблизно о 15.30 на прес-конференцію, на зустріч з Радою Церков. Це напевно буде дуже важливий підсумок цих всіх днів. Тому заохочуємо і запрошуємо на цю зустріч о 15.30. Ну що ж, нам залишається сказати смачного і до зустрічі. До зустрічі. Слава Ісусу Христу. На віки слава.